Amici di MarciGames bentornati! Siamo su Pogs! Il gioco... I rivali dei Coox! I rivali dei Coox e siamo dei cani! Oggi non sono più un Pitbull ma sono un Rottweiler Sono un Rottweiler Ah, quindi è un po' più aggressivo il... Sono... Abbaio aggressivo, scusa La sfondi la tastiera Fai un abbaio da Pitbull Però tu non va... Ah, ero io... Ma? Io sto addormendo Eh, non va il tu... No Io sono il blu E tu sei rosso? No, non sei il rosso Burloni un attimo Ciao amici, siamo tornati! Woooo! Però devi girare Gira, gira Aspetta, chi sono? Sono il blu Tu sei il blu Ok, sono il blu Tu sei il blu Non è facile Ah, stavolta? Quattro ossa Ok Guarda, iniziamo già male Perché non si è da niente? Dobbiamo... Io devo... No, aspetta, io sono il blu, giusto? Io devo andare di qua Sì, vai Ma non è blu Dobbiamo girare... Ti devi... Ti dovresti andare a... Bravo E ora dobbiamo aprirlo Si è scaricato alla... Gearback again Non so, io davvero non ho capito cosa dobbiamo fare Dobbiamo aprire questo coso È presente tipo l'ovetto kinder che fai così? Eh, tira Marco non ho mangiato gli ovetti kinder oggi Devi andare lì Aggrappati Ma non ti stai aggrappando? Easy! Ma nel chilling! Hai visto? Puoi metterti i baffi di cane tipo Da gatto È uguale, dai Da gatto Posso metterli? Dove andiamo? Voglio metterli i baffi... Ah, possiamo spenderle ossa Vai Forse è meglio fare il livello No, quello non mi piace Ma cosa c'è? Non c'è un fiore E non ti piace il fiore? Va bene Andiamo a... Guarda, no scusa Me lo voglio indossare No, io lo voglio indossare Cioè, l'hai visto tu? Non posso io? Dai, ora è blu Devi cliccare che devi abbagliare Dai, andiamo a fare il livello Va, che forse è meglio Dove... Ma quindi adesso che gatto ti senti? Tipo, sia mese? Sia mese è mio gatto, sì Dove dobbiamo andare, guarda? Eh, è... Vai Ma ogni tanto esageri L'ha fatto lui così No, che figo Sembrava un intestino viola Hai visto? No, non ho visto Oh, Aladin Aladin Non Aladino Che lo chiamo Aladino, scusami Ma nessuno, era una battuta Scemo Stincato oggi, eh No, io penso che qua la situazione potrebbe essere complicata Perché non vedo ossa Andi... Ma sei all'inizio Easy Qua nel chilling, mi raccomando Guarda, qua ti devi... Campi da sogno Non è meglio capire cosa... No, io... Sulla fiducia Ah, l'intestino! L'ho visto, eh L'ho visto, c'era l'intestino C'era l'intestino, infatti L'avevo visto anch'io Qua siamo, c'è il coso di sto Oh, l'hai visto? No Oh, e invece sì Eh, sì, eh Vediamo quanti ce ne sono in totale qua Prendi Sei, secondo me Cinque Ok Vedi che lì sotto c'è un punto interrogativo Ulla Che figo No, ti giuro È troppo bella sta cosa Mi sa che questo non è buono Eh, sì, è buono Perché... Non ho capito con il tuo... E voi, vedi che c'ha le bolle La tua paura Ma c'ha le bolle Destra? No, qua c'è un osso da qualche parte Andiamo nella tenda Qui c'è l'osso Sì, sì Cosa per accenderla E come lo prendo Se c'è sta cosa davanti E tirami No, non funziona Eh, mi dispiace, campione Non... No, ma da qualche parte Un'interruttore c'è Secondo me Basta accenderlo dopo E come fai? No, lui vuole che si accenda E come fai? E non... Secondo me si andava avanti Andiamo avanti Va bene, andiamo avanti Ma che vedi che sono te spente le luci? Mm, ok Qua c'è un fantasmino Ah, è lui che dà luce Aspetta che... Sono confusi Perché dire della luce dalla bocca? Ah, accendine tutte Vai È la cosa più bella del mondo Oh, c'è uno sticino Bello Due di cinque Si vuole assiù Due di cinque Let's go Ma ora dobbiamo fare una piccola pausa, ragazzi Adesso, con la luce Se tu noti il petrolio Non so se è proprio petrolio Però si può togliere Ok, vedi che qua possiamo scendere Ma tu ti sei studiato Cosa è incredibile Però andiamo dietro Non ci fosse rossa Roba strana Infatti andiamo dietro e controlliamo Eh, ma Si è appena sceso Aspetta, lascia qua la luce La lascio qua, giusto? No, non devi lasciarla No, 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 no Eh, aspetta Riprenditi sta mizza di luce Eccola qui E ora No, no Vabbè Possiamo andare Dobbiamo andare di qua, guarda Scendiamo Eh, ma se scendiamo Non eravamo prima No, qui non eravamo qua Dritto Ma dove eravamo prima non ci sono ossa No Sei sicuro? Sì E se ne cerco una e la trovo? No Ok, qua abbiamo acceso la luce E abbiamo finito il livello Vai Guarda che bello l'intestino Questa è la cacca Quando fai tantissimo Ti chiamo quando mangi un botto Così tanto si gonfia Un bel po' si gonfia La luce? Abbiamo perso la luce Quindi dobbiamo trovare di nuovo questa luce Allora, che cos'è questa roba qua? Devi attaccarti Ok, attaccati E ora? Eh No, secondo me dobbiamo andare dritto Ok Ah, ho capito Adesso dobbiamo cercare un'altra luce nuova Aspetta, però qua sotto Ehi, guarda qua quanta luce c'è Vieni qua sotto Ma lì c'è un botto di luce Eh, lo so, però qua sotto Però che c'è un tipo delle ossa Che non abbiamo visto Eh, ma qua c'è Questa vuole palesemente l'osso Ok Ok Questo niente Ah, lì la luce Eh, con la luce serve Sì Eh sì, luce Sì Andiamo a cercare la luce Vamos con la luce Popo ropopo Qua è pieno di luce, guarda Con la luce Perché ti stai allungando Popo ropopo Io non ho fatto niente E neanche io ho fatto nulla Eh, allora è colpa tua In genere quando è colpa di qualcuno È colpa di Nico Oh, là c'è la luce Vai, vai, vai Prendila te C'è il trampolino lì Ma non si può Ah, no, si che si può Attacca che ha dei problemi Vabbè, l'hai presa tu Questo? Questa luce? Un attimo L'avevi brangiata tu Ecco Andiamo Ok No, Nico Di qua È grossa la luce Di qua Nico Devi stare Comandando tutto te Sei comandando Ma com'è possibile? Dico giù 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 Fammi vedere cosa c'è C'è un coso che ti fa saltare Quindi magari Non lo possiamo prendere C'è già provato Non lo possiamo prendere Nel chilling Sali qua sopra Sali, sali E dove sta È pesante È pesante Vabbè Vai Che comunque Giù, giù, giù Giù, l'osso giù Giù, l'osso giù Giù, l'osso giù E l'osso giù Eh Ok Vai Eh, ho capito È che grande la palla Devi passare Ehi E come fa Aspetta Mi sto allungando io Ti sto allungando Preso Siamo a tre Vai Ok ora Dobbiamo andare dalla vecchietta lì Ok Vuoi illuminare la vecchietta? La vecchietta La vecchietta Ehi Ehi Ora la luce Che sto facendo? Sta suonando Sta suonando la E mo che suona che succede Ehi, andiamo su Andiamo a vedere Allora, questo Pogs qua Mi mette un po' di ansia Lui va illuminato Ah, devi lasciarla qua Tipo Lasciamola qua Ok E non è facile stare Stai fermo Aspetta, stai così? Non devi inquadrare Ti allontano Che sto stai facendo? E sto tornando su E ma Non credi che Fare così sia tipo meglio? Puoi lasciare sopra qualcosa lì? Lascialo su qualcosa Una cosa Lascia Ecco Eh, l'hai mangiato tu Bravo Andiamo via Ma Dico Ma ce la fai? No, comunque Non è possibile E lasciati andare Torno su qua Eccoci qua Ok, riattaccati Ma qui tutto è d'accendo Ehi, infatti Sta attaccato lì Ah, io? Sta attaccato Bravo Guarda Vai Vai che ci sei Vai che ci sei quasi Vai, vieni Lascia Ti sto Tirammi su Oh, yes Aspetta Lascia Nico devi lasciar Perché hai fatto filtro tasti? Fai no Perché devi fare bordello sempre? Ma sei tu il pro... Nico, cioè Comunque veramente c'è del ritardo Dai Come on, vai Stacca Ma cosa hai combinato? Ma si può rompere? Stacca Cioè, no, veramente Ha rotto il gioco Cos'hai combinato? Cambia i tasti Cambia i tasti Metti tipo un altro Allora Abbina tasti Vai Ma non è possibile Ah, proprio se Si è rotta la tastiera Cioè, mi hai rotto la tastiera? No, vabbè Adesso vai sotto la stacchila e ne attacchi Non vanno più anche i tasti permanenti Ma hai seguito tu qualcosa che non devi fare Io non ho fatto niente Io ho premuto questo e questo Allora, cerchi Come bloccare... Come... Come... Come sbloccare la tastiera No, no Cioè, è successo qualcosa Momento della verità Vai Easy Prendi la cosa lì Aspetta che ho paura per me i tasti adesso No, no, no Vai Illumina tutto Ok, anche questo Nel chilling Non ci siamo più ossa niente No, qua non penso Eh, no Dietro più che altro No, no, qua a posto Ma la palla devo portarla Sì, 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 perché la luce Ok, andiamo Saga tent Allora, qui c'è Allora, qui c'è da illuminare la campana La campana Così Eccola Ok, si è aperto lì Mi sa Ok Andiamo Andiamo No, nel senso che... Lì cos'è? C'è una palla luminosa forse Ma non penso sia questa la palla luminosa Ma dico, ma... Ma io ho visto qualcosa di strano Sì, ma tu sei particolare come persona Lui stai richiedendo qualcosa, vedi? Sì, sta generando una cosa che ride Eeeh... Deve andare di là Ma questo punto secondo te esiste? No, non esiste Ah, però si passa sotto Eh, capito Eh, dai Capito Qui puoi passare così Qui c'è la palla No, l'osso... Eh, no, l'osso c'è da qualche parte Eh, bisogna cercarlo Non l'ho presa Ora l'abbiamo presa in troppi Ok Nel chilling La lucina lì sotto è da accendere Adesso andiamo a fare tutto Accendi tutto Che magari c'è un osso nascosto Sotto il ponte No Cioè, eeeh Dai pesci Buttati dai pesci Secondo me moriamo se ci buttiamo qua sotto Buttati dai pesci No, no A parte che non puoi Vado io? No, non puoi Non puoi Vuoi vedere che posso? Non puoi Lo tento, eh No, no Io lo faccio Va bene così Conta fino a tre? No, nel chilling No, 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 no Riprendi Eeeh, pallina Andiamo dalla tipa? Dai Bisogna solo... Eeeh, un attimo, non è facile Tu fai di tutto come se fosse semplice Eccoci qua Ehi, ciao Ah, vuole pescare Ah, no Vuole la palla Oh, ha funzionato Mamma, mi sono spaventato, eh Questo gioco è un po' strano Dobbiamo muoverci Ha fatto così, eh Noi abbiamo acceso tutte le luci, però Ah, dobbiamo andar lì sotto? Osso! E come... Come facciamo? E io vado Vado io Ah, no, ti do corda, aspetta Vai E no, so Vabbè, forse dobbiamo cadere Secondo me sì Vai, prendilo Mamma mia Qua veramente nel chilling comunque Insomma, un po' complicato questo video Mamma, qua è pazzesco E la luce deve andare a finire E dobbiamo andare a prendere un'altra Alla dritta davanti a te Eh, ma qua cadi e muori Eh sì No, no, magari no No Oh, siamo rinati Aspetta, qua c'è un problema però, effettivamente Ah Ho capito Ho capito Devi andare su quella luce lì Che te la accende Vedi che è un interruttore È un interruttore Vai Vedi Vedi Ah, ma bello Ora ho già capito E adesso lì devi spegnerlo Ah, è perché c'è la cosa ombrosa Sì, vedi Vai Comunque o le capisco tutte le cose Ah Cioè, comunque io sono veramente È giusto Sono troppo forte Puoi dirlo? Si può dire sta cosa? E ora questo? Aspetta che a destra c'è qualcosa A destra c'è polesemente qualcosa Ah, dobbiamo pescare Aspetta, azzanna Azzanna e gira Ah no, devi buttarlo giù e peschiamo un osso Ok, sì, c'è ragione Vai Eh, ha boccato Ha boccato Tira su, tira su Secondo me è una sch... Madre di... No, d'altra parte È che non è molto È serio No Ti do a corda Vai Mamma mia 5 su 5 Zio Al secondo livello Mi sono fatto male Eh, mi hai fatto un coforo Dai, dai, dai Dietro, dietro Dietro Bravo Mi sono fatto male Adesso di qua Ne prendi C'è la campana da illuminare lì Eh, sì Vabbè, non c'è più una da trovare Prendi, prendi, vedi qua Basta Hai presa? Hai presa tu No, di prenderla tu Eh, ma prima hai presa tu Devi prenderla Ah, di prendere tu Non si sposta Ah, così Vedi Fatto Easy Chill Veloce che si illumina magari Secondo me abbiamo finito il livello così, eh Ma magari Guarda che 5 ossa così Finiamo Ma è finito qua Ci vediamo in un prossimo video Spero che questi video vi siano piaciuti Poi ne le diciamo tanti Stasettimana Un botto Proprio prima che te ne vai Una marea Ciao Ciao